Ti piacciono osservare le stelle? Uno dei simboli del Natale sono le stelle. Ma c'è una stella in particolare che io vorrei sapere se tu hai mai visto, la stella del Natale. Quando noi parliamo di stelle, noi parliamo di un qualcosa che è molto presente nella parola di Dio. Ci sono almeno 70 riferimenti sulle stelle, sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento. Le stelle possono rappresentare cose diverse, non soltanto questi astri luminosi che noi ben appunto troviamo nella Genesi come qualcosa creato dalle mani del nostro Signore, come insieme anche astri luminosi come il Sole e la Luna. Le stelle hanno, come ho detto, un significato diverso. A volte possono rappresentare la grande discendenza di una persona, come nel caso di Abramo. Le stelle possono anche rappresentare, purtroppo, l'idolatria che c'era nel cuore dell'uomo. A volte anche presenti nel cuore del popolo di Israele, nel Regno del Nord, quando il profeta Amos ha denunciato questa idolatria, o anche nel Regno del Sud, nel Regno di Giuda. Ma è già nel Pentateuco, nel Libro di Deuteronomio, nel capitolo 4, versetto 19, quando il Signore condanna e permesso di Mosè, vieta assolutamente l'adorazione degli astri luminosi. È come se l'essere umano fosse attratto dalla luce di queste stelle. Noi sappiamo che nel mondo antico, come ancora oggi, nel mondo postmoderno, molte persone si fanno guidare dalle stelle, dai pianeti, dal movimento, dalla posizione di questi astri luminosi. Alcuni dicono, io ho fortuna, oppure ho la sfortuna, in base alla posizione delle stelle. Tutto questo è una finzione, non è vero. Quello che è vero, però, è che c'è una stella nella parola di Dio, che ha segnato un momento particolare. Una stella che è chiamata la stella di Betlemme. Questa stella che segna la nascita del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi stiamo parlando di un periodo in cui il re era il re Erode. Voi sapete che il re Erode ha regnato dal 37 fino al 4 avanti Cristo. E in questo tempo, quando si presenta questa stella, ancora oggi c'è molta speculazione su questa stella del Natale, della stella del Betlemme. Questa stella che dicono è l'adempimento della profezia della nascita del Messia, che noi oggi, questa mattina, vogliamo comprendere per il nostro cuore. Vogliamo comprendere che cosa hanno visto questi uomini che sono venuti dall'Oriente per vedere questa stella. Quindi io e te vogliamo comprendere e soprattutto vedere quali sono gli effetti, i risultati di questa stella nella nostra vita, nella mia vita e nella tua vita ancora oggi. È vero però, io devo dire, che molte persone speculano ancora oggi su questa stella. Ci sono studiose che magari dicono che era la coda di un cometa, altri che dicono che no, invece era la congiunzione planetaria, ossia pianeti che si erano allineati, quindi si creava questa luminosità, questa stella così grande. Addirittura si dice che nell'anno 7 avanti Cristo si è verificato questa grande stella. Però la verità, cari, è che nessuno sa, nessuno sa, per esempio, qual era il colore della stella, nessuno sa qual era la forma della stella, nessuno sa la grandezza, la magnitudine di questa stella. Tutto questo non viene registrato. Quello che viene registrato nella parola di Dio è che questi uomini dell'Oriente, questi magi, sono venuti e hanno detto la cosa più importante. noi abbiamo visto la stella, abbiamo visto la sua stella, abbiamo visto la stella del Messia, e quindi è questa stella che è stata utilizzata per condurre questi uomini fino a Cristo che noi vogliamo questa mattina guardare dalla parola del Signore. Quindi ti invito a rimanere con me. In Matteo capitolo 2, versetto 2, noi leggiamo, perché abbiamo visto la sua stella ad est e siamo venuti per adorarlo. Questi uomini sono venuti e la prima cosa che dicono, il verbo che noi troviamo qui, che per noi è così importante, loro dicono, noi abbiamo visto. E visto o vedere qui vuol dire questo percepire con questa particolare attenzione. questi erano uomini che osservavano le stelle. Di mestiere facevano appunto queste persone che osservano le stelle, probabilmente astronomi che stavano a osservare gli astri luminosi, a studiarli, a vedere sia la direzione, o vedere il movimento di queste stelle. Però questo guardare con attenzione, ossia guardare, preoccuparsi, considerare, vuol dire che questi uomini sono stati colpiti in una maniera particolare. Non era la prima stella che avevano visto. Eppure questi uomini stavano guardando con molta attenzione. Ebbene, oggi è il 25 di dicembre del 2020 e io vorrei veramente chiederti di guardare con attenzione la stella del Signore Gesù Cristo, perché questa stella possa in una maniera particolare illuminare il tuo cuore, trasformare la tua vita. Sai perché? Perché quando tu vedi la stella del nostro Signore Gesù Cristo, la tua vita sarà trasformata. Noi questa mattina vogliamo vedere brevemente almeno quattro risultati che si presentano nella mia, nella tua vita, quando noi vediamo la stella del nostro Signore Gesù Cristo. Il primo risultato che noi vediamo, che è realizzato, che accade nella nostra vita, è che quando noi vediamo la sua stella, la stella di Cristo, il nostro cuore è ripieno di gioia. In Matteo capitolo 2, versetto 10, dice, quando videro la stella, ossia quando i magi hanno visto la stella, dice qui la parola di Dio, si rallegrarono di grandissima gioia. Questo sentimento, il risultato di aver visto la stella, in questo caso non era di spavento, non era di preoccupazione, non era di angoscia, ma dice che questi uomini, quando hanno visto la stella del Signore, si sono rallegrati di una gioia immensa. Caro amico, amica, caro fratello, cara sorella, oggi se tu vieni alla luce di Cristo, la tua vita sarà estremamente benedetta. La parola di Dio dice che Cristo Gesù è stato crocifisso, seppellito, è stato risorto, è stato assunto in cielo, la sua gloria si è manifestata e Lui si trova alla destra del Padre. Ora, Cristo Gesù, che è esaltato nei cieli, Lui, tu puoi vedere oggi la luce della gloria perfetta del nostro Signore Gesù Cristo sopra la tua vita. Allora, oggi, non aspettare, non rimanere in questa situazione magari di oscurità, perché il Signore, quando rivela la sua luce a te, ti vuole riempire della vera gioia nel tuo cuore. Forse sei insicuro, forse sei stanco, forse sei scoraggiato. Il Signore Gesù dice a noi questa mattina, venite a me, voi tutti che siete affaticati oppressi perché io vi darò riposo. Io però devo venire alla luce del Signore. E in questo Natale, umanamente, forse tu avrai tanti motivi per sentirti scoraggiato, tanti motivi per lamentarti, tanti motivi per essere triste, tanti motivi per non gioire, per non celebrare. Io ti posso garantire una cosa, caro amico e amica, non saranno le lampadine o le luci che le persone mettono fuori alla finestra o dentro della sua casa che potranno cambiare la loro vita. Dio non dipende da queste luci, Dio non dipende da queste lampadine. Il Signore vuole che la sua gloria, o come dice nella parola di Dio, il Shekinah, del luogo santo del Signore, possa illuminare profondamente la tua vita perché Cristo Gesù già ha compiuto l'opera della salvezza. E se tu vedi la luce del Signore e lascia che questa luce entra nel tuo cuore, allora tu avrai un cuore ripieno della gioia del Signore nel nome di Cristo Gesù. Quando noi guardiamo le stelle, quando noi guardiamo l'orizzonte, quando noi guardiamo un bellissimo panorama, quando noi guardiamo la luna, quando noi guardiamo il sole, noi sappiamo che il firmamento raccontano la gloria e l'opera del Signore. E il messaggio che il Signore sta dando a noi è che questa luce del Signore vuole illuminare la tua vita, ma gli estremi confini della terra. Dio ha salvato, già ha scelto i suoi, perché Lui vuole che la sua gloria, la gloria del Messia, si manifesti nella nostra vita. La parola di Dio dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 20, queste parole, in verità, in verità, io vi dico che voi piangete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. Forse 2020 è stato un anno di tristezza per te, forse questo Natale è un anno molto difficile per te, però ti posso garantire che se tu lasci la gioia, la luce del Signore entrare nella tua vita, la gioia del Signore riempirà il tuo cuore per la gloria del nostro Signore, perché questa è la potenza del nostro Dio. Se tu guardi attentamente alla luce del Signore, tu potrai ricevere questa benedizione della gioia e allora il tuo Natale sarà diverso. Anche l'Apostolo Paolo, lui dice in Romani, capitolo 12, versetto 12, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Noi possiamo e dobbiamo continuare a guardare la luce del Signore, perché la sua luce rinnova la nostra speranza per poter continuare. Anche la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse, capitolo 19, versetto 7, dice, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Non importa quello che sta accadendo, non importa quello che accadrà nel futuro, se tu hai visto la luce del Signore, questa luce entra nel tuo cuore, trasforma la tua vita e tu avrai la gioia che il Signore Gesù Cristo ha promesso a te, per te e per la tua famiglia, perché la volontà di Dio è che la sua parola, quando vedi la luce del Vangelo di Cristo, questa parola possa illuminare la tua vita come ha fatto nella vita dei magi. Oggi, quando tu vedi la stela del Signore, nulla sarà come prima. Il primo risultato è esattamente questo, perché quando noi vediamo la luce del Signore, tu hai la gioia nel tuo cuore. Tu vuoi ricevere questa gioia? Allora, guarda alla luce del Signore. Il secondo risultato che si presenta nella nostra vita quando noi vediamo la stela del Signore è che quando noi vediamo la sua stela, noi lo adoriamo. La parola di Dio dice in Matteo, capitolo 2, versetto 11, Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi, lo adorarono, e aperti il loro tesore gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Forse noi abbiamo sentito parlare molto di questi saggi. Alla Chiesa Romana, per esempio, dice di conoscere quali erano i loro nomi, dice più o meno di sapere quali erano i loro ornamenti, che hanno viaggiato usando magari dei cammelli, ma tutti questi dettagli la Bibbia non ce lo dice. Noi sappiamo che erano dei magi dell'Oriente, degli studiosi, uomini di molta scienza, di molta conoscenza, probabilmente uomini pagani, probabilmente adoratori di stelle. Noi non speculeremo su di loro, noi dobbiamo piuttosto imparare dall'esempio di questi uomini, perché loro non si sono accontentati di guardare, di osservare, di ammirare la stella. Non stavano lì a prendere appunti su tutte le caratteristiche della stella, quante volte luccicavo, quando si muoveva, o la magnitudine di questa stella. Loro volevano capire questa stella, dove stava andando, perché l'obiettivo loro più che vedere la stella era conoscere il padrone della stella che è Cristo Gesù. Loro sono partiti subito alla ricerca del nostro Signore e cari, come io vorrei che noi tutti fossimo come loro. Persone che non ci accontentiamo di vedere la stella, ma noi andiamo a cercare colui che è il padrone della stella che è il nostro Signore Cristo Gesù. E nonostante il loro viaggio, nonostante la distanza, nonostante aver dovuto attraversare dei fiumi, nonostante tutti i chilometri che hanno fatto, tutti i pericoli che hanno affrontato, queste persone, quando vanno e sono venute alla casa dove si trovava il Signore Gesù Cristo, insieme a Giuseppe, insieme a Maria, che cosa fanno? Rimangono fuori a osservare la stella? No. Loro entrano. E la stella si ferma, ma loro non hanno paura di perdere la stella. Dicono, ma lascia stare questa stella. La stella è servita per indirizzarci verso il Signore e noi vogliamo conoscere il Signore, colui che è il potente Signore. Noi vogliamo vedere il nostro Signore. E magari, alzando il chiave stello, sono entrati in quella umile dimora nella residenza del bambino e hanno visto qualcuno che illuminava molto più che quella stella che era fuori, che era il nostro Signore Cristo Gesù. E quando hanno visto il Signore, allora dice la parola del Signore che questi uomini che hanno visto il Dio incarnato, Cristo Gesù, il Messia, colui che è il creatore dei cieli della terra, che si è incarnato nella vita di un neonato, il Signore dice nella sua parola che loro hanno adorato il Signore inchinandosi, si sono prostrati davanti al Signore. Molto più che inginocchiarsi, loro hanno messo la propria faccia a terra, si sono umiliati, si sono abbassati. Caro amico, cara amica, per te, fratello in Cristo, per te, sorella, nell'amore del Signore. Questo è un Natale dove noi non ci possiamo abbracciare, questo è un Natale dove noi non ci possiamo baciare, ma questo è un Natale in cui noi ci dobbiamo inginocchiare, ci dobbiamo prostrare davanti al nostro Signore. Il Signore vuole che noi possiamo venire davanti a Lui e adorare il nostro Signore con tutto il nostro cuore. Noi sappiamo che molte persone, anche durante il ministero di Cristo, anche avendo visto i miracoli del Signore, non hanno fatto quello che hanno fatto questi uomini. Dopo la risurrezione di Cristo, in Matteo, capitolo 28, versetto 17, dice la parola del Signore che alcuni quando hanno visto il Cristo risorto, alcuni lo adorarono, altri però lo hanno dubitato. Allora, io non so, te oggi, che cosa vuoi fare davanti al Signore? Non stare a guardare fuori. La stella entra nella casa, vai a vedere il Messia, prostrati davanti al Signore, perché anche noi dobbiamo adorare il nostro Signore Salvatore. Sai perché? Perché altrimenti tu non sarai salvato. Chi non adora il Signore non è salvato. L'adorazione è un qualcosa che deve essere fatta soltanto al nostro Dio, perché nessuna altra persona è degno di essere adorato, lodato, pregato come il Signore dei Signori, re dei re, che è Cristo Gesù. Adora solo il Signore, prega solo il Signore, perché Lui ha dato la sua vita, ha completato l'opera della salvezza e noi crediamo nel suo amore. Non dividere la gloria che appartiene a Dio con nessuna altra persona, che sia un uomo, che sia una donna, che sia un oggetto, che sia una stella nel cielo, l'adorazione appartiene al nostro Signore. Gesù Cristo è venuto per cancellare i nostri peccati e oggi Lui si fa trovare davanti a noi e se non hai mai adorato Cristo Gesù, io ti sfido a farlo, perché quando farai la tua vita sarà diversa e quando ti prostri davanti al Signore che il tuo cuore sarà ripieno della vera gioia. C'è un predicatore che ha vissuto molto tempo fa, nell'anno 1834-1892, Charles Spurgeon. Lui dice, parlando dei magi, questi uomini dimostrano di essere saggi perché quando videro il bambino lo adorarono. La loro non era curiosità gratificata, ma devozione esercitata. Anche noi, dice Spurgeon, dobbiamo adorare il Salvatore, altrimenti non saremo mai salvati da Lui. Se tu vuoi che il tuo Natale sia diverso, incomincia ad adorare il Signore. Solo quando tu vedi la stella del Signore, nulla nella tua vita sarà come prima se adori il Signore. Noi abbiamo visto già due risultati, vogliamo vedere il terzo risultato che si presenta nella nostra vita quando noi vediamo la luce del nostro Signore. E quindi il terzo risultato è che quando noi vediamo la sua stella gli offriamo i nostri doni. Matteo capitolo 2 versetto 11 dice che quando sono entrati in casa hanno visto il bambino come abbiamo letto, hanno visto la madre, si sono prostrati davanti al Signore, hanno adorato il Signore Gesù e qua c'è questa azione e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni oro, incenso e mirra. È importante questa azione davanti al Signore dei Signori e Re dei Re. loro offrirono dei doni e offrire qua ossia vuol dire presentare ossia offrire ossia è un termine che viene spesso utilizzato nella parola di Dio quando qualcuno offriva dei sacrifici. I saggi diversamente da Erode che era molto arrabbiato molto arrabbiato per la nascita del Messia questi uomini erano felici il loro volto il loro cuore era pieno di gioia e loro volevano offrire al Signore questi doni per la gloria del nostro Signore Gesù Erode invece dall'altra parte che cosa faceva? Lui era un uomo pieno di odio e quello che lui ha fatto addirittura se questa tempesta che si è rivolta dentro del suo cuore si è manifestata anziché offrire un dono per glorificare il Signore lui ha offerto la morte lui voleva distruggere il Messia non si voleva prostrare davanti al Signore Erode che aveva paura di perdere il suo potere questo uomo pieno di odio che aveva ucciso addirittura persone della sua stessa famiglia per una persona cattiva dove c'era il peccato l'ostinatezza la durezza nel suo cuore lui che cosa fa anziché adorare il Signore in Matteo capitolo 2 versetto 16 noi leggiamo allora Erode vedendosi beffato dai magi si addirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi questa che tra l'altro è una profezia del profeta Geremia come dice il versetto 17 e il versetto 18 ma che cosa noi possiamo imparare dall'esempio di queste magi e dalla differenza che loro hanno per esempio con Erode noi dobbiamo imparare che queste persone loro adoravano e permettevano ossia che il nostro Signore fosse adorato da loro e loro non andavano però nell'adorare al Signore mai con le mani vuote ma andavano con il cuore e con le mani sempre pronte per adorare il nostro Signore oggi in questo Natale nonostante la crisi nonostante le difficoltà noi dobbiamo chiedere a noi stessi Signore io che cosa renderò a te che cosa ti darò per glorificarti che cosa ti darò Signore per onorarti tra l'altro noi non diamo nulla al Signore perché tutto appartiene al Signore ma noi possiamo dare il nostro tempo il nostro talento il nostro tesoro questi uomini magi loro si sono prostrati davanti al Gesù bambino e hanno offerto oro incenso e mirra hanno offerto il meglio dei metalli hanno offerto oro al re dei re hanno offerto al sacerdote questo incenso e hanno offerto anche diciamo al figlio di Dio questa mirra perché qua parla del Signore in qualità del Signore figlio di Dio la stessa essenza del Padre questi uomini che hanno un cuore generoso questi uomini che hanno un cuore pieno per consacrare la loro vita il loro cuore le loro mani davanti al Signore oggi si pensa che è saggio ricevere sempre perché io voglio prendere dalle persone però in effetti nella parola di Dio insegna esattamente l'incontrario io devo dare e nel dare io sarò benedetto la parola di Dio dice è meglio dare che ricevere perché questo dimostra l'azione di adorazione al Signore anche l'amore che noi abbiamo per Dio e per il nostro prossimo a proposito di andare in fondo e dare veramente non rimanere solo sulla superficie delle cose tu sai che quando tu dai tu sperimenti un qualcosa che magari in altre occasioni non puoi sperimentare per esempio tanti di noi forse anche oggi o hai già mangiato o mangerai magari un panettone però se tu vedi il panettone se lo vuoi mangiare non puoi semplicemente prendere un panettone e mangiarlo noi dobbiamo toglierlo dalla sua confezione spesso c'è un sacchetto di plastica e spesso diciamo io devo togliere anche quella carta che avvolge tutto il panettone tagliarlo per dopo poter assaporare il gusto di questa tradizione italiana che è il panettone quando noi rimaniamo solo nella parte esterna noi non possiamo gustare il vero sapore dell'amore di Cristo nella nostra vita è solo quando noi amiamo il Signore adoriamo il Signore che noi offriamo la nostra vita e non c'è cosa più bella di poter offrire l'amore di Dio alle altre persone e di poter glorificare Dio con le nostre azioni Giacomo nella sua epistola nel capitolo 1 versetto 27 lui dice la religione pura e senza macchia davanti a Dio e padre è questa soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo c'è anche un'altra citazione che vorrei fare che dice povere come sono se fossi un pastore porterei un agnello se fossi un uomo saggio farei la mia parte eppure cosa posso dargli il mio cuore oggi io e te possiamo dare il nostro cuore al nostro Signore noi possiamo dare la nostra vita forse non hai né oro né incenso né mirra ma noi possiamo e dobbiamo offrire il nostro culto al Signore la nostra adorazione e offrire il nostro cuore a Cristo Gesù perché quando hai dato il tuo cuore tu hai dato la tua completa esistenza al Signore quando vedi la stella del Signore nulla sarà come prima il quarto risultato che si presenta nella nostra vita quando noi vediamo la stella del Signore è che quando noi vediamo la sua stella noi torniamo a casa noi torniamo alla vita in un altro modo non più come prima vedi questi uomini che sono venuti dall'Oriente hanno trovato Cristo prima sono arrivati a Gerusalemme hanno trovato Erode hanno chiesto a Erode ma dove è che deve nascere il re dei giudei Erode si era arrabbiato e c'erano lì i sacerdoti c'erano gli scribi e sono andati subito a mando di Erode a verificare dove doveva nascere il Messia e hanno detto a Betleme a Betleme deve nascere il Messia secondo la profezia biblica del Signore eppure queste persone quando incontrano il Signore quando devono tornare a casa vanno da un altro modo ossia non percorrono la stessa strada che hanno percorso per venire fino a Betleme per incontrare il Messia quello che io sto dicendo è che quando ti incontri con Cristo la tua vita non sarà mai più come prima quando il tuo Natale è presente Cristo Gesù la tua strada il tuo futuro sarà completamente diverso la parola di Dio dice in Matteo capitolo 2 versetto 12 poi avvertiti in sogno di non passare da Erode tornarono al loro paese per un'altra via Gesù Cristo è la via la verità e la vita forse tu stai percorrendo ancora la strada della tua vita ma se oggi ti incontri con Cristo la tua vita sarà cambiata il tuo futuro sarà diverso tu percorrerai camminerai vivrai in un'altra maniera il Signore vuole dare a te la trasformazione vera semplice profonda che dà a te la vera gioia della luce del nostro Signore per il tuo cuore ascolta bene queste parole la condotta dei saggi è un lampante è un lampante esempio di fede credetero in Cristo quando non lo avevano mai visto ma non era tutto credetero in Lui quando gli scribe i farisei erano incredoli ma ancora una volta non era tutto credetero in Lui quando lo videro un neonato sulle ginocchia di Maria e lo adorarono come un re questo era il punto culminante della loro fede non hanno visto miracoli per convincerli non hanno sentito alcun insegnamento per convincerli non videro segni di divinità e grandezza che intimorissero non vedevano altro che un neonato indifeso e debole e bisognoso delle cure di una madre come ognuno di noi eppure videro quando videro quel bambino credettero di vedere il divino salvatore del mondo caro amico cara amica quando tu vedi il Signore la tua vita quando credi nel Signore quando sente la sua potenza quando il Signore entra nel tuo cuore la tua vita sarà completamente diversa oggi in questo Natale tu puoi avere una vita completamente diversa il Signore darà a te la libertà il Signore darà a te una speranza il Signore magari tu oggi ti senti come in una prigione dove non hai una via d'uscita non vedi la luce alla fine del tunnel eppure il Signore sta dicendo a te questa mattina vieni a me perché io ti voglio trasformare nel nome del Signore a proposito di libertà James Byne è andato in prigione negli Stati Uniti d'America nel 1974 quando aveva soltanto 19 anni questo uomo che è andato in carcere le autorità lo hanno rilasciato niente di meno nel 2009 come un uomo ormai di 54 anni lui aveva scontato una pena di 35 anni di condanna all'ergastolo perché lui nello stato della Florida era stato condannato per aver rapito e violentato un bambino di soltanto 9 anni condannato era un uomo ossia visto dalla società e dalla legge lì negli Stati Uniti dell'America veramente come un uomo senza speranza che meritava essere nel carcere non è stato perdonato o rilasciato sulla parola eppure qualcosa di grande è successo nella sua vita perché James Byne nel test del DNA ha dimostrato che lui era fosse innocente e che significa però che lui ha trascorso 35 anni della sua esistenza della sua vita in una prigione per un crimine che non aveva mai commesso mio caro amico mia cara amica guarda bene che cosa ha fatto James Byne la prima cosa che lui fa quando esce dalla prigione quando il giudice lo dice testi del DNA ha dimostrato che tu non sei responsabile per questo crimine tu da oggi sei un uomo libero completamente libero la prima cosa che lui fa è telefonare alla sua mamma usando il cellulare una donna che ha 77 anni per dire mamma sono stato rilasciato e sai una cosa non sono arrabbiato perché io ho Dio io ho visto la testimonianza di questo uomo c'è solo una persona che può trasformare la tua mente il tuo cuore per non essere arrabbiato con la società per non essere arrabbiato con la legge per non essere arrabbiato con il tuo prossimo c'è una persona che ti può dare la speranza e questo è Cristo Gesù lui ti vuole liberare dalla prigione però allo stesso tempo ti vuole dare un senso vero del perdono perché quando tu perdoni allora tu sei libero e se James Byne non avesse perdonato lui sarebbe come se fosse ancora nel carcere ancora arrabbiato ancora triste ancora con una vita cupa ma quando tu credi nel nostro Signore Gesù Cristo allora tu hai veramente tanti motivi per gioire tu hai qualche ramarico nella tua vita hai qualcosa che nel tuo cuore ti fa sentire come in una prigionia allora il Signore ti sta dando l'occasione oggi di cambiare la tua strada di cambiare il tuo futuro di dare a te la vera libertà e se tu oggi fai come questi uomini la tua vita sarà completamente diversa tu devi fare tre cose molto semplici fare come questi uomini che sono i magi che hanno incontrato il Signore e quando lasci la luce del Signore illuminare la tua vita la tua vita sarà diversa ho detto che hai bisogno di fare tre cose molto semplici tre passi devi prendere passo numero uno ammetti che tu sei un peccatore ammetti che tu hai guidato la tua vita sei andato per la tua strada ma hai visto che non ti porta da nessuna parte passo numero due scegli Cristo Gesù i magi hanno visto Cristo non hanno conosciuto e visto i suoi miracoli ma hanno creduto forse tu non hai visto non hai toccato le mani del Messia ma tu puoi conoscere il Messia attraverso la sua parola ammetti che sei un peccatore scegli Cristo Gesù è l'unico che può salvare la tua vita non c'è uomo non c'è governo non c'è nessuna persona che ti possa garantire un futuro soltanto Cristo Gesù una vita eterna ammetti di essere un peccatore scegli Cristo Gesù perché l'unico che è morto è stato risorto e sta tornando e ha pagato per i nostri peccati completamente oggi ammetti di essere un peccatore scegli Cristo Gesù il passo ancora più importante riceve Gesù Cristo nel tuo cuore quegli uomini non sono rimasti a guardare la stella loro sono entrati per conoscere il Signore di persona oggi vieni a Cristo anche a casa tua dove sei fai questa preghiera con me nel nome di Gesù Signore io ammetto di essere un peccatore ma io voglio vivere con te oggi io ti prego Signore che tu possa essere l'oggetto della mia fede non voglio credere Signore alle menzogne e le speculazioni che ci sono nel mondo io non soltanto ammetto di essere un peccatore ma io scelgo Cristo Gesù come il mio personale salvatore colui che ha pagato per i miei peccati quando è morto sulla croce è stato seppelito è stato risorto al terzo giorno è stato salito in cielo assunto in cielo e sta tornando per prendere il suo popolo io scelgo Cristo Gesù Signore Gesù entra nel mio cuore trasforma nella mia vita non voglio più vivere un Natale senza di te da oggi il 25 di dicembre del 2020 io voglio Gesù Cristo nella mia vita nel nome di Gesù non lasciarmi vivi sempre con me ti prego Signore nel nome di Gesù se tu hai fatto questa preghiera ammettendo di essere un peccatore scegliendo Cristo Gesù e ricevendo Gesù Cristo nel tuo cuore io ti posso dare benvenuto alla famiglia di Dio perché da oggi in poi come quegli uomini che sono venuti dall'Oriente si sono incontrati con Cristo e sono tornati attraverso un'altra strada la strada che il Signore aveva indicato loro anche la tua vita sarà diversa perché hai Cristo Gesù questo Natale è diverso perché hai creduto nel Messia Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica